Ieri al San Martino di Maiori, Costa d'Amalfi e d'Agropoli, si giocavano la qualificazione ai quarti di Coppa e la partita è terminata 1-1 con i Delfini che passano il turno. Primi 20 minuti di studio e nulla di fatto, ma subito dopo gli ospiti in maglia grigia passavano in vantaggio con Dattilio. Abile a sfruttare una discesa sulla sinistra di Pappalardo, il colpo di testa dell'ex Avellino si insaccava imparabilmente alle spalle di Cinque. La replica dei padroni di casa era affidata all'ex Apicella, ma questi non riusciva a sorprendere Graziano calciando sull'esterno della rete. Attorno alla mezz'ora altre due occasioni per la formazione di Esposito e un'altra ancora sul finire della prima frazione. Chance per l'Agropoli con Selvaggio. L'inizio ripresa vedeva la formazione di casa, maggiormente insidiosa e al cinquantesimo ronga colui che aveva segnato anche all'andata beffava Graziano dopo un'azione di rimessa ottimamente orchestrata da senatore, a seguire solita girandola di cambi, ma la gara non subiva ulteriori sussulti ad eccetto di una conclusione dal limite del capitano Cestaro per i padroni di casa su cui il portiere agropolese Graziano era strepitoso a dire no. I delfini accedono dunque ai quarti di finale dove affronteranno la palmese di Enzo Criscuolo.